Buonasera, spesso mi chiedono perché abbia scritto le mie storie, beh, la prima cosa che mi viene in mente è che la gente non ha più immaginazione, ma non solo gli adulti, neanche i bambini sanno più sognare, è per questo che ho iniziato a scrivere, nella speranza che qualcuno creda ancora nelle parole, se ci vale qualcosa. Grazie a tutti. 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 Grazie.